Un esordio a due velocità, quello della Megabox Vallefoglia tra le mura amiche contro Cuneo. Sotto per 2-0 le padrone di casa trovano coesione e gioco e ribaltano la gara portando la casa al tie-break. Per il capitano Koscialeva una vittoria frutto della collaborazione, una vittoria che dà due punti in classifica. Zero quelli per la Balducci Macerata neopromossa. A Novara contro una squadra giunta alle semifinali play-off la scorsa stagione e costruita per arrivare lontano. Anche in questa le marchigiane soccombono 3-0 lottando solo nel terzo set terminato 25-21. Senza storia gli altri due. Nella Superlega di Valle Maschile battuta d'arresto per la Lube Civitanova a Monza. I campioni d'Italia sconfitti 3-0 senza mai entrare in partita e sempre soffrendo il servizio dei Lombardi. Terzo set perso malamente con solo 12 punti messi a segno. Gli uomini di Blengini rimangono a 9 lunghezze in classifica al terzo posto dopo 5 match. Nel prossimo turno affronteranno all'Eurosuole Perugia la grande rivale di questi anni in testa alla graduatoria a punteggio pieno.